Radio Bari.cult, gli incontri culturali e musicali in primo piano su Radio Bari. Ciao Bari, buon martedì 9 giugno a tutti, ben ritrovati su Radio Bari.cult. Io sono Barbara Cirillo e vostra compagna ogni giorno per tenervi aggiornati sui tanti, tantissimi appuntamenti di questa settimana. E parliamo di un evento di questo weekend, lo facciamo insieme a Cristina Allegretti, buongiorno Emilio Pierdi, buongiorno. Buongiorno. E allora parliamo di un'esposizione di macchine d'epoca, in realtà sarà molto di più, un evento che sarà allestito in Piazza Quercia a Trani. Iniziamo a parlare un po' di che cosa si tratta, perché ripeto non sarà semplicemente un'esposizione di auto d'epoca. No, in realtà è un'ambientazione, cioè si tende a ricreare le atmosfere degli anni ruggenti. Il grande Casby, il Charleston, il Blues, quelle musiche che tanto hanno emozionato. E chiaramente per richiamare l'atmosfera nel suo complesso, il protagonista principale non può che essere l'automobile, l'autostorica che in quell'epoca conobbe proprio la sua prima fase di evoluzione, di sviluppo meccanico. Era un po' la tecnologia massima del momento. Per cui diciamo che il protagonista fondamentale che sarà e farà da sfondo alla manifestazione saranno queste auto d'epoca molto belle, molto particolari. In particolare in Piazza Quercia saranno esposte alcune vetture selezionate tra gli anni 20, 30 e 40. E per cui sono proprio quelle della Torpedo Blu, per capirci. Mentre comunque parteciperanno all'evento anche auto, diciamo post anni ruggenti, ma sempre auto d'epoca che emozionano e ad ognuno di noi rievoca ricordi. Ovviamente, un ricordo sotto tutto personale. Però ci sarà, visto che è un'ambientazione, ci saranno anche magari abiti d'epoca. Esatto. Innanzitutto volevo dire che questa è la seconda edizione dell'evento. Si svolge sabato, quindi sabato sera avremo una sfilata di abiti a cura dello stilista Corallo, Alberto Corallo. A fare cornice delle autovetture ci saranno questi abiti d'epoca dell'Istituto Cosmai di Moda di Trani, che appunto ha curato queste rievocazioni. Ci saranno dei figuranti che faranno da cornice alle autovetture. Diamo un attimo gli orari per tutti gli eventi, sia di sabato che di domenica. Allora, la serata di domenica, la sfilata, inizierà alle 18.30. A seguire, alle 21.30, presso il ristorante Club La Lampara, ci sarà una cena party con musica live dal vivo. Ovviamente che rievocherà sempre quegli anni. Esatto, con musica appunto a tema degli anni ruggenti. E il domenica, mentre è 14 giugno, ci sarà la parata delle autovetture. Alle 10.30 ci si raduna tutti in Piazza Quercia. E poi, a completare la giornata, premieremo. Ecco, ci sarà un concorso d'eleganze. Quindi verranno premiate le autovetture. Più eleganti. Quante autovetture vinceranno? Abbiamo previsto primo, secondo e terzo classificato. Anche per un fatto di enfatizzare, diciamo, un po' proprio questo tipo di vetture. Perché averle tutte insieme lì è veramente una cosa abbastanza successiva. Quante ce ne saranno? Ce ne saranno assolutamente intorno ad una quarantina, forse di più. Noi cercheremo di contenere il numero, perché se superiamo certi parametri diventa difficoltosa la gestione. E che cosa vinceranno, diciamo, le autovetture premiate? Questo forse lo può spiegare meglio, Cristina. Allora, il primo classificato vince un weekend presso una fiera di settore a Modena. Il secondo classificato un weekend presso una masseria pugliese. E mentre il terzo classificato un pranzo o una cena nei nostri ristoranti, bellissimi ristoranti tranesi. Ah, ecco. Quindi avete apparecchiato, diciamo, tutto in modo tale da non scontentare nessuno, ma soprattutto i tanti curiosi che sicuramente verranno a fare un giro in Piazza Quercia. Ovviamente vogliamo sottolineare il fatto che gli eventi sono tutti gratuiti. Sì, sì, assolutamente. Anche la cena? La cena no. La cena alla Lampara ha un costo di 40 euro su prenotazione. In realtà siamo già, diciamo, siamo quasi sold out. Quasi pieni. Sì, quasi pieni. Però diamo un po' di indicazioni magari per chi volesse partecipare. Allora, per tutte le informazioni potete contattare il sito, potete trovare le informazioni sul nostro sito, www.anniruggentitrani.it, oppure potete mandarci una mail su infochiocciolaanniruggentitrani.it. E poi sul sito magari trovate anche dei numeri di telefono, ovviamente tutto il programma, giusto? Tutto il programma scannagliato, così magari potete anche decidere di vedere cosa e quando. Però ricordiamo l'appuntamento questo sabato e questa domenica in Piazza Quercia a Trani con anni ruggenti, un'ambientazione insomma tutta dedicata appunto agli anni 20, 30 e 40. Grazie per essere stati qui e in bocca al lupo per questa seconda edizione. Io sono sicura che sarà un vero successo come poi l'è stata anche la primissima edizione. Quindi veramente un grande in bocca al lupo a voi. Grazie a Cristina Legretti, grazie anche a Emilio Perri, perché ogni tanto deve sapere che sbaglio i cognomi. Grazie a voi per essere stati qui con noi e io restituisco la linea alla regia di Telebari, ringraziando Federico Semplice, ma io il buon Paolino Gentile che oggi compie 18 anni. Continuiamo su Radio Bari 88.8 www.radiobari.net